Siamo qui in diretta sulla pagina facebook di NoCensura.com per la gara inaugurale degli europei di calcio. Le formazioni in campo presentano da una parte il Bilderberg e dall'altra gli umani. Sarà una partita molto combattuta perché sappiamo che le due formazioni si odiano. In particolare il Bilderberg odia gli umani. Ole, 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 Bilderberger! Umani, umani! Su le mani, su le mani, per gli umani! Le formazioni in campo. Il Bilderberg si presenta con la formazione a piramide in stile Ancelotti. Un 4-2-3-1. Abbiamo in attacco carta igienica Barnabé. Dopo i due suggeritori per l'attaccante, la Gruber e la Magioni. Dietro di loro a centrocampo, lo juventino Elkan. L'ospite d'eccezione si è segretamente dalla Russia, dalla Persia ovviamente. Mi sono confuso con Putin, che in campo non c'è. Alla destra di Cerse abbiamo Ratti in culo, architetto del MIT. Difesa molto agguerrita, davanti a un portiere molto misterioso. Difesa molto agguerrita. Abbiamo terzino sinistro Christine Lagarde. I due centrali, Marietto Draghi e Romero Prodi. E un terzino sinistro molto molto cattivo. dato che il terzino destro è Christine Lagarde, ma il terzino sinistro è molto molto peggio. Hillary Clinton dall'America. Importa un pericolosissimo Harry Kinzinger, famoso già per le partite che ha giocato contro Moro e contro Allende. Tutti sanno la fine che hanno fatto. Gli umani sono molto intimiti dal portiere. Umani che presentano una forma... dimenticavo il Bilberbeck allenato dalla famiglia Fresco Baldi. Umani invece in formazione a cerchio, il noto famoso 5-5-5 di Oronzo Canà. E adesso inquadreremo anche gli umani. Gli umani, 5-5-5, è diventato presto un 13-1-1. 13-1-1 con piteci, tutti in porta. 13 piteci in porta, molti intimoriti dal portiere avversario. e gli unici due coraggiosi sono Socrates, dalla Grecia, che porta la sua sapienza in campo, e il famoso Leonida, che questa volta vorrà distruggere Cersei. Ci troviamo a fasi molto concittate della partita, 0-0. Vi ricordo l'allenatore è Oronzo Canà per gli umani e il preparatore d'atletico è Mela Stark. Ma ci troviamo qui, 89esimo minuto, 89esimo minuto, 89esimo minuto. Contropiede degli umani, contropiede Socrates, Leonida. Socrates, Leonida. Cazzo, ha fatto fuori Cersei, Leonida, ha fatto fuori Cersei. Palla, palla Socrates, fa fuori i centrali, fa fuori i centrali, Socrates fa fuori i centrali, tiro, sta preparando il tiro. Goal! Distrutto Kissinger, distrutto Kissinger. Grandi umani, 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 sulle mani, sulle mani, per gli umani. Cari piteci, così è come sarebbe andata se voi, bimbi minchia, piteci, calciofili del cazzo, foste qua con noi. Ma, a quanto vediamo, qui a Dresda non ci siete. Cosa volevi fare? Siete sempre un pubblico di merda. Svegliatevi! Aprite gli occhi, tirate via ste fette di salame. Studiate il signoraggio bancario, Antonio Pimpi. Il TTP, cos'è il Fiscal Compact? Che cosa me ne frega degli europei se qui ci stanno ammazzando? C'è la vita umana in pericolo, la vita umana. Svegliamoci, diamo più importanza agli europei di una vita umana. Forza, svegliamoci.